Carissimi concittadini, carissimi elettori e carissimi sudditi, benvenuti sul Noma Mammazzo. Questo è il video di ringraziamento del 2021, il mio video presidenziale in cui ci tengo a ringraziare tutte le persone con cui ho collaborato in questo anno che sta per volgere al termine, con cui mi auguro di collaborare di nuovo anche nel prossimo anno, nel 2022, sia perché con molte persone ho ancora molto da dire, ci sono ormai delle collaborazioni consolidate, ci sono state delle collaborazioni sporadiche, anche solo di una live, ma dove ho scoperto delle persone che si sono rivelate molto interessanti al punto che ci tengo particolarmente a rivedere queste persone in future collaborazioni e spero appunto che l'anno venturo possa presentare questa possibilità. Nel frattempo io voglio cominciare elencando tutte le persone cercando di mantenere un ordine abbastanza cronologico con tutte le persone con cui ho collaborato nel 2021. Vorrei partire con la gang con cui ho creato questo format del Trivial Pursuit a fumetti, abbiamo usato il Trivial Pursuit a fumetti della Bonelli che però spazia su varie domande di tutto il fumetto in generale e ci siamo sfidati in varie live, prima sul mio canale Twitch, poi sul mio canale YouTube e poi queste live sono andate anche a livello itinerante su canali di altri streamer, live che sono state anche di ispirazione ad altri format simili su canali di altri streamer. Vorrei ringraziare Maurizio, Chirio1984, Umberto di Pelati e Fumetti, Dili dell'altro fumetto, Kuro, il canale di Kuro che in realtà si chiama Fabio come me ma per non confonderci lo chiamo Kuro e Luca DJ del canale Storie dell'altra vita. Con questi ultimi due individui, queste ultime due bellissime personcine ho collaborato anche in altre live a tema di Landog, abbiamo fatto delle live a cadenza mensile, abbiamo fatto se non sbaglio 5 live a cadenza mensile, appunto con il canale di Kuro e Luca DJ di Storie dell'altra vita, in cui abbiamo trattato le tematiche di Landog. Abbiamo fatto due rassegne stampa e nelle altre live abbiamo parlato di Landog e la musica, Landog e l'arte e Landog e la malattia. Luca e Fabio sono stati i miei due co-host, quindi co-conduttori, ma ho anche avuto degli ospiti, degli ospiti interessantissimi, come per esempio il gruppo Verbasco, che ha composto una canzone appunto dal titolo Dylan Dog, che forse avrete sentito appunto sul canale di Kuro nella sua rubrica Old Boy, come sigla di apertura, e poi anche Velázquez, Miguel Velázquez, che invece ha composto un intero album ispirandosi all'indagatore dell'incubo di Kraven Road. Kraven Road è proprio il titolo di questo album, che trovate anche su Spotify, e contiene ben sette tracce, sette come il numero civico di Kraven Road, ispirate all'indagatore dell'incubo. Nella live invece di Landog e l'arte ho avuto il piacere di avere come ospite Beatrice Paris, che potete trovare su Instagram. Lei si occupa principalmente di scovare l'arte e invece di metterla da parte di narrarcela qualora lei la trovasse dove non ci si aspetta di trovarla, come magari nella cultura pop, nel cinema, nell'animazione, e ci mostra un po' le rappresentazioni nell'arte in altri media. Con lei abbiamo appunto creato questa live di Dylan Dog e l'arte, dove le ho mostrato tutte le tavole di Dylan Dog ispirate a delle opere d'arte, lei che di Dylan Dog non conosceva assolutamente nulla, ma senza appunto conoscere il fumetto in questione, ci ha narrato a cosa il messaggio che davano queste tavole, queste opere d'arte, e abbiamo scoperto insieme, in quella che è stata una delle live più interessanti dell'anno, come non solo l'opera d'arte che ha ispirato il fumetto era simile al fumetto nel comparto grafico, era simile anche per il messaggio che dava il fumetto, il fumetto dava lo stesso messaggio dell'opera d'arte a cui si ispirava. Successivamente abbiamo fatto una delle live forse più serie, però vi ragioni, dell'anno, che è Dylan Dog e la malattia, in cui ci siamo concentrati sulla malattia nell'età senile, e ho avuto come ospiti due laureate in psicologia, Ilaria Gervasini e Marta Clara Onorato, che ci hanno appunto raccontato un po' il loro punto di vista sull'esperienza che hanno avuto con questo tipo di persone che hanno questo tipo di malattia. Subito, il giorno dopo invece, abbiamo parlato in generale di malattia, ma anche di eutanasia, ispirandoci al numero di Dylan Dog mater morbi, sul canale Twitch di Mr. Guli, dove ho collaborato appunto con Mr. Guli e con 1,2,3 Nerd, altro canale Twitch che trovate qua su Twitch, 1,2,3 Nerd. Poi se invece mi state seguendo da YouTube lo trovate qua sotto in descrizione. Sempre su Twitch sono stato invitato anche al compleanno del canale di Atex Channel, che trovate qua sempre sotto in descrizione, che ringrazio per l'invito. Mentre per quanto riguarda appunto YouTube ho collaborato quest'anno solo in un video, ma in generale ci ho già fatto anche altre live, sempre con la psicologa Fabiola Salmi, che ringrazio per la sua collaborazione, psicologa Fabiola Salmi, nonché anche mia amica Fabiola, che ringrazio. Fabiola Salmi, insieme anche a Ilaria Gervasini, che ho citato prima sulla live di Landog e la malattia, con anche le mie due amiche Euridice e Chiara, di cui non voglio fare il cognome per un discorso di privacy, assolutamente non per un discorso di mancanza di rispetto, anzi solo per la loro privacy. Ci tengo a ringraziarle perché hanno fatto anche delle live qua su Twitch. Chiara ha partecipato alla mia prima live Le cose che non vi ho detto, che sarà una delle live argomentazioni del prossimo anno su Twitch, mentre Euridice e Ilaria Gervasini hanno partecipato a quella che è stata la mia prima live, la mia parte intollerante, che sarà un altro tema delle live che ci sarà nel 2022. Queste persone, insieme a Fabiola, dovrebbero un po' far parte di questa nuova scuderia che dovrebbe aiutarmi in queste live di attualità che ci saranno nel 2022, sempre su Twitch. Per quanto riguarda invece, si torna diciamo un po' nell'ambito della cultura pop, nell'ambito nerd, ci tengo anche a ringraziare SerialGamer75, con cui abbiamo collaborato insieme per fare il video in cui abbiamo parlato di E-Man e Master of the Universe, in concomitanza dell'uscita di Master of the Universe Revelation abbiamo mostrato i nostri vecchi giocattoli, nonché anche i vecchi giocattoli di Paolo e Lorenzo, che come sempre anche quest'anno ci hanno dato ospitalità, dandoci la loro location, dove già tempo addietro avevo girato il video di Cotto e Shazam, quindi ringrazio anche Lorenzo, Paolo e SerialGamer75. Tutte queste persone, in particolare chi ha un canale social, la trovate qua sotto in descrizione. Ci tengo a ringraziare anche Bluesberry, che mi ha ospitato spesso sul suo canale, anch'io ho fatto un paio di live qua su Twitch o su YouTube, adesso non ricordo, in cui ho ospitato Bluesberry e Black Arlash, stesso discorso, sono stato anche ospite sul suo canale e anche lui è stato ospite sul mio canale, quindi ci tengo a ringraziare Bluesberry e Black Arlash e, dulcisì in fondo, ci tengo a ringraziare lo staff, diciamo, di Samuel Stern, la casa editrice, la Bugs di Samuel Stern, per le due live che ho avuto di recente. Ringrazio proprio la persona di Gianmarco Fumasoli e Massimiliano Filadoro, che hanno partecipato alla live Due anni di Samuel Stern, che si è tenuta su YouTube, e sempre su YouTube si è tenuta anche la live in cui mi sono dedicato al numero 26 di Samuel Stern, un numero che mi ha colpito particolarmente. Ringrazio le due autrici, la sceneggiatrice Antonella Liverano Moscoviti e la disegnatrice Lisa Salsi. Sono sicuro di aver dimenticato qualcuno, quindi ci tengo a fare anche un ringraziamento generale a tutte le persone che hanno collaborato con me quest'anno. Se mi sono dimenticato di voi è solo mancanza di memoria, non è assolutamente perché non siete stati importanti, anzi vi ringrazio ancora. Quindi nel dubbio ci tengo a concludere questo video ringraziando tutti. Grazie, graziella e grazie al carico. Grazie a tutti.